ben ritrovati amici solitamente se si parla di giochi coi treni o sui treni ci aspettiamo qualcosa di estremamente complesso sul tavolo il gioco di oggi più che altro per la sua confezione ma anche per i suoi materiali che anche comunque per la sua scheda tecnica potrebbe sembrare un'eccezione un gioco semplice in realtà anche questo è molto molto complesso soprattutto da padroneggiare partiamo quindi dalla graziosa scatola di pacific rails inc eccola qui leggiamola un po 2 4 giocatori 14 più l'età 45 60 minuti di durata forse un po ottimista ideato da dean morris ed edito dalla kobold che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi storicamente la pacific rails è stata una ferrovia importantissima per l'america perché è stata la prima che ha collegato l'est all'ovest in questo gioco i giocatori vorranno appunto costruire una ferrovia che colleghi le due estremità di una mappa molto molto spartana se vogliamo però comunque nell'ambientazione di gioco quindi partendo da un lato e anche dall'altro per incontrarsi nel mezzo si tratta comunque di un gioco di selezione azioni e soprattutto di costruzione motore non è molto complesso in realtà come regola in sé per sé quanto comunque per e soprattutto metterle in pratica quindi la spiegazione i suoi concetti ce li avrà però ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso per cui vediamo come funziona sistemiamo il tabellone al centro del tavolo qui nella zona del senato dovremo sistemare questi cappelli che nell'ambientazione di gioco sono i senatori su questi spazi ce ne saranno alcuni condisegnate delle risorse quelli subito accanto i punti dovranno essere sistemati a coprire i punti qui su questi quattro spazi dovremo piazzare quattro obiettivi comuni di fine partita per i giocatori sorteggiati tra tutti quelli disponibili in questi spazi dovremo piazzare i personaggi impilando le tesserine considerando che sul retro di ogni tesserina ci sarà scritto in quanti giocatori dovremo essere al tavolo per poterla utilizzare ovviamente più saremo e più saranno numerose quelle tesserine ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere la sua plancia iniziale ovvero questa locomotiva e questa prima carrozza un etto e mezzo di plastica in varie forme e dimensione e avremo questo piccolo trenino che sarà il contapunti che partirà dallo zero di questo tracciato avremo poi i telegrafi che partiranno da questi spazi le casette che dovranno coprire tutti questi spazi tranne uno che rimarrà libero starà al giocatore scegliere quale lasciare libero in base a come vorrà impostare la partita vi consiglio almeno nelle prime partite di lasciare libera la casella più a sinistra della zona con la moneta poi dopo ci arriviamo avremo anche sei lavoratori se staremo giocando in due giocatori serviranno tutti in tre giocatori solo quattro in quattro giocatori solo tre per giocatore e poi avremo queste due locomotive le quali dovranno essere piazzate lì sul tabellone una su un lato e una sull'altro della zona della mappa dopo aver scelto un primo giocatore a caso partendo dall'ultimo il quale sceglierà un lato sul quale piazzare la prima locomotiva andando a ritroso fino al primo che piazzerà l'ultima locomotiva su un lato e poi ripartendo dal primo che comincerà a piazzare la locomotiva sull'altro lato fino a tornare all'ultimo oltre a tutto questo ognuno riceverà anche una risorsa per tipo monete metallo legno e polvere da sparo da essere alloggiate qui sopra la carrozza iniziale che sarà anche il magazzino del giocatore siamo già pronti per iniziare una partita a questo gioco si articola in un numero variabile di turni e si andrà avanti a giocare fino a quando un giocatore sancirà alla fine della partita collegando ininterrottamente da ferrovie un lato piccolo e l'altro lato piccolo della zona della mappa la cosa più difficile da spiegare in questo gioco ma anche il cuore del turno di ogni giocatore è questa zona nella quale dovremo scegliere l'azione da intraprendere nel turno in questa zona infatti su questi spazi con le impronte dovremo piazzare i nostri lavoratori a guardare due spazi adiacenti tra loro potremo sistemare un lavoratore prendendolo dalla nostra riserva oppure togliendolo dal tabellone per rimetterlo nella nostra riserva infatti in questo gioco nonostante sia un piazzamento lavoratori non ci sarà una fase nella quale metteremo tutti i lavoratori e poi li riprenderemo gratuitamente lo stesso lavoratore ci permetterà di compiere un'azione azione piazzandolo e anche togliendolo dal tabellone quindi facendo un esempio pratico se io scelgo di piazzare un lavoratore in questo spazio potrò scegliere tra questa o questa azione se poi volessi rimuovere quel lavoratore potrò scegliere di nuovo se compiere questa o questa azione se poi in un turno successivo piazzassi questo lavoratore questo mi permetterà di scegliere tra questa o questa azione però se sceglierò questa siccome ce n'è anche un altro dei miei che stanno guardando questa azione la farò leggermente potenziata stessa cosa se rimuoverò uno di questi lavoratori siccome comunque originariamente ce n'era più di uno farò la stessa azione leggermente potenziata poi il come si potenzieranno è l'ultima cosa che vi spiegherò per quanto riguarda le regole laddove un giocatore volesse piazzare un lavoratore a compiere un'azione e tutti gli spazi che stanno guardando quell'azione fossero pieni il lavoratore andrà piazzato direttamente sopra l'azione tutti i giocatori proprietari degli altri lavoratori li riprenderanno nella propria riserva e per ogni lavoratore ripreso in questo modo i giocatori proprietari riceveranno dalla riserva un cappello da cowboy che potranno sistemare in uno di questi spazi infatti avremo un massimo di due cappelli di capienza sulla nostra plancia in una fase successiva della partita potremo scartare uno dei nostri cappelli per fuggere come lavoratore virtuale per potenziare di una unità l'azione che stiamo per intraprendere il lavoratore però messo sopra l'azione avrà il beneficio di essere come se fosse adiacente alla stessa azione e a quelle ortogonalmente adiacenti quindi di fatto faccio un favore agli altri perché consegno loro il cappello che è un lavoratore virtuale però faccio anche un favore a me stesso perché avrò più azioni alle quali essere adiacente per potenziarle per creare una mini strategia per i turni a venire vediamo quindi a questo punto le azioni che potremo scegliere lì sulla plancia vi ricordo le attiveremo o piazzando o rimuovendo un nostro lavoratore i quattro spazi agli angoli di questa griglia ci permetteranno di prendere nuove risorse a seconda dello spazio che sceglieremo potremo ricevere delle monete del metallo del legno o della polvere da sparo mi raccomando se eccederemo la capienza del nostro magazzino e saranno comunque tutti gli spazi sopra ai vagoni del nostro treno e ci funge da plancia dovremo scartare le eccedenze però dopo aver preso le nuove risorse potremo fare delle scelte quando scegliamo di produrre risorse con questi spazi riceveremo sempre come base una unità di quella risorsa poi avremo alcuni bonus riceveremo delle unità aggiuntive laddove togliendo queste casette avessimo scoperto dei bonus per quella produzione di risorse per esempio qui abbiamo la zona delle monete con un più uno se facciamo l'azione di reclutamento monete riceveremo una di base più una perché quello spazio è vuoto e così via considerate comunque il primo spazio aumenterà di uno il secondo ci permetterà di prendere due unità in più il terzo tre unità in più oltre alla ricezione di risorse ognuno di questi spazi avrà anche queste zone verdi che saranno delle azioni aggiuntive da poter intraprendere dopo aver raccolto le risorse per il momento vi spiego solo quella della zona nella quale potremo ricevere il metallo che spendendo legno ci permette di piazzare alcune nostre casette su questi spazi sulle zone produttive potremo scegliere liberamente la zona con la risorsa che vogliamo potenziare per esempio in questo caso il legno per essere piazzata in quello spazio considerate comunque dalla nostra plancia dovremo levare le casette da sinistra a destra per ogni casetta presente nella zona produttiva nella quale stiamo producendo risorse riceveremo una unità aggiuntiva quindi ricapitolando una unità di base più uno per ogni casetta lì presente più la cifra maggiore scoperta sotto alla zona della nostra plancia sulla quale abbiamo rimosso almeno una casetta avremo poi questi quattro spazi che sono quelli un po più difficili da spiegare tra quelli sul gioco almeno per quanto riguarda la mia esperienza con questi spazi potremo attivare tutti i personaggi in nostro possesso più per primo il personaggio disegnato sullo spazio stesso ora i personaggi arriveranno più avanti nella partita e tra poco vi farò vedere come poterli acquisire e poi amministrare ed attivare per il momento vi faccio vedere quali sono le quattro tipologie di personaggi ognuno dei quali sarà associato ad una risorsa diversa ce ne sarà uno che ci permetterà di spendere le monete per interagire con i senatori gli altri tre ci permetteranno di scambiare le risorse metallo in ferrovie per la pianura il legno in ferrovie sui ponti e la polvere da sparo in ferrovie in galleria per poi sistemare queste ferrovie a completare tutti i tracciati per andare avanti sulla mappa quindi vediamo questi personaggi nell'ordine nel quale ho sistemato queste risorse partiamo da quello delle monete scartando una moneta mi viene permesso di spostare uno di questi cappelli a coprire la casella subito accanto di fatto convertendo una moneta in altre risorse per fare questo il cappello che ho scelto lo dovrò spostare a coprire quelle risorse notare bene che in questo modo scoprirò la zona con i punti ogni cappello lascerà sempre vuoto quello spazio che dà esattamente un punto andando avanti con la partita questi cappelli staranno molto in basso e quindi si scopriranno tante caselle con i punti infatti un'altra opzione per questo tipo di azione con lo stesso personaggio è quello di scartare esattamente una moneta per resettare tutti i cappelli quindi tutti i senatori e prendere tanti punti quanto il numero di cappelli che saranno tornati al loro posto ovviamente ogni qualvolta riceveremo dei punti faremo avanzare il nostro mini trenino di conseguenza per quanto riguarda gli altri personaggi ce ne sarà uno mi permetterà di scartare il metallo per prendere le ferrovie ce ne sarà uno mi permetterà di scartare il legno per prendere i ponti ce ne sarà uno mi permetterà di scartare la polvere da sparo per prendere i tunnel questi pezzettini dovranno essere alloggiati nel nostro magazzino il quale comunque fungerà come avrete capito sia da magazzino risorse che anche da magazzino per i pezzi di tracciato che avremo in quel momento prodotto e quindi dovremo amministrare bene questi spazi perché ci serveranno sia per la risorsa base che anche per la sua evoluzione ovvero le ferrovie quindi facciamo un mini epilogo con gli spazi agli angoli di questa griglia potrò ricevere delle risorse una di base più una per ogni casetta del mio colore piazzata nello spazio che sto attivando più eventuali bonus dati dalle casette avrò tolto dalla zona relativa a quella risorsa sulla mia plancia personale questi altri spazi invece mi permetteranno di attivare tutti i miei personaggi partendo da quello bonus offerto dallo spazio stesso e poi tutti quelli in mio possesso che tra poco arriveranno questi mi permetteranno di scartare monete per attivare i senatori per prendere altre risorse oppure resettandoli per prendere dei punti oppure scartare del metallo per prendere le ferrovie il legno per prendere i ponti la polvere da sparo per prendere i tunnel queste ferrovie che avremo prodotto in questo modo dovranno essere alloggiate nel nostro magazzino personale andiamo quindi all'ultimo spazio quello centrale che avrà due possibilità per il giocatore e dovremo scegliere non le potremo attivare entrambe potremo o piazzare i binari sulla mappa oppure assumere nuovi personaggi per il momento piazziamo i binari allora abbiamo visto prima che un po il modo per far finire la partita è quello di collegare di fatto l'ovest all'est in questa mappa per fare questo però non dovremo necessariamente fare un collegamento solo di ferrovie che ci appartengono infatti tracciati una volta piazzati non saranno più di proprietà di nessuno e quindi potremo anche utilizzare quelli piazzati dagli altri giocatori per avvicinarci al nostro intento però ogni qualvolta effettueremo l'azione di piazzamento binari non potremo piazzarli per arrivare a un certo punto e fermarci dovremo per forza collegare una città con un'altra vicino ai bordi del tabellone le città saranno molto vicine come vedete via via andremo verso il centro del tabellone le città saranno molto più distanziate ce ne saranno meno quindi per esempio intraprendendo questa azione la prima volta nella partita potremo collegare questa casella iniziale a questa città a livello di mappa avremo quattro tipologie di spazi le pianure sulle quali potremo piazzare solo le ferrovie in pianura le colline sulle quali potremo piazzare solo le gallerie l'acqua sulla quale potremo piazzare solo i ponti e le montagne che saranno invalicabili quindi per esempio per arrivare a questo spazio potremo utilizzare o una ferrovia in pianura qui o un tunnel in questa collina tutti i tracciati che andremo piazzando con questa azione dovranno essere già in nostro possesso quindi prima dovremo prendere le risorse convertirle in tracciati e quelli giusti e poi piazzare i binari per collegare definitivamente una città all'altra quindi per esempio attiviamo lo spazio centrale piazziamo la galleria su questa collina colleghiamo di fatto la casella iniziale a questa città sulla quale portiamo la nostra locomotiva ogni qual volta collegheremo una città alla rete dovremo scegliere se piazzare o una casetta o un palo del telegrafo a livello analitico le case non daranno punti per essere piazzate sul tabellone almeno non le daranno nel mentre della partita però le prime tre case che piazzeremo in questo modo ci permetteranno di aggiungere dei pezzi alla nostra plancia i quali ci permetteranno di assicurarci gli spazi per i nostri personaggi come dicevo prima per quanto riguarda i telegrafi invece questi ci daranno dei punti immediatamente considerate che comunque nella stessa città il palo del telegrafo e la casetta potranno tranquillamente coesistere ma dovranno essere di due giocatori diversi quindi detto tra noi a livello strategico le prime tre volte che collegheremo delle città sarà necessario piazzare le casette perché ci daranno delle parti aggiuntive della nostra plancia dalla quarta volta in avanti potremo andare col telegrafo mi raccomando di nuovo le casette andranno prelevate da sinistra a destra eventualmente potenziando ulteriormente delle zone per la raccolta delle risorse e quindi piazzando la prima casetta avremo diritto a ricevere la prima estensione della nostra plancia la quale ci permetterà di ricevere gratuitamente un personaggio tra quelli disponibili da piazzare in questo spazio ogni estensione della nostra plancia di fatto ci darà degli spazi aggiuntivi per il nostro magazzino personale per le risorse e i tracciati e anche quindi il primo personaggio in più per attivare le catene ogni qualvolta faremo una di queste azioni quelle dei personaggi appunto tornando sulla mappa ogni qualvolta faremo l'azione di collegamento riceveremo comunque sempre dei punti per aver collegato quelle città alla rete il regolamento ha veramente tanti esempi in questo però al tempo stesso è abbastanza arsigogolato e consideriamo anche che il regolamento da delle situazioni che in tutte le partite che ho fatto non mi sono mai capitate considerate quindi questo riassunto molto stringato dovremo verificare dal nostro punto di partenza qual è la città più vicina ogni casella che sarà necessaria ad arrivare a quella città vicina nella quale avremo piazzato un pezzo del nostro tracciato ci varrà due punti ogni pezzo eccedente per la distanza minima ci darà un solo punto quindi in questo esempio piazzando questa singola ferrovia dentro la collina avremo ricevuto due punti quindi per esempio se anziché fare questo collegamento ne avessimo fatto un altro più lungo per fare il giro da sopra cosa impossibile perché comunque le ferrovie avete visto che sono costosissime da fare per la prima avremo ricevuto due punti tutti gli altri ci avrebbero dato un punto ciascuno ripeto è una cosa che non succede mai la seconda volta che piazzeremo una casa sulla mappa riceveremo la seconda estensione per la nostra plancia però dalla seconda in avanti non avremo il personaggio gratuito però avremo comunque spazi aggiuntivi per il nostro magazzino avremo infine anche la terza estensione che non sto a sistemare perché tanto comunque lo spazio è quello che è che comunque ci darà eventualmente dei punti laddove riuscissimo a piazzare dei personaggi all'interno di questo vagone comunque ci darà sempre tre spazi aggiuntivi al nostro magazzino giusto per fare un altro esempio però all'opposto come edificio costruito collegando questa città a quest'altra abbiamo intrapreso questo collegamento è quello più breve di due spazi ricevendo quindi due più due quattro punti e arrivando lì anziché la casetta ci piazziamo il telegrafo i telegrafi andranno prelevati dal basso verso l'alto e avranno dei punti crescenti via via che li piazzeremo ricevendo quindi punti aggiuntivi immediati però ripeto che il telegrafo non ci permetterà di piazzare nuove estensioni della nostra plancia ci darà invece dei punti immediati adesso che c'è spazio posso spiegare anche l'altra metà della casella centrale quella con la quale potremo reclutare nuovi personaggi i personaggi avranno dei costi per quanto riguarda il loro acquisto in risorse e saranno costi crescenti quanto più lontano andranno piazzati dalla nostra tesserona iniziale di partenza infatti piazzarli nella seconda casella della prima carrozza avrà un costo molto basso crescente nella seconda molto alto nella terza il perché è semplice ogni volta faremo l'azione dei personaggi quindi ricordo una di queste quattro e il primo personaggio da attivare sarà quello bonus della casella stessa dovremo attivare quel personaggio e poi tutti quelli del nostro treno partendo da sinistra a destra e verranno attivati tante volte quanto il numero della carrozza nella quale risiedono quindi tutti quelli della prima carrozza verranno attivati una volta quelli nella seconda carrozza due volte quelli nella terza carrozza tre volte ciascuno e quindi capite bene il perché andando avanti nel treno i prezzi saranno sempre maggiori per questi personaggi però potremo in questo modo creare un minimo otore di gioco adesso che ho fatto un quadro generale vi spiego gli altri tre bonus in verde che troviamo nelle caselle produttive vi ricordo che questo già spiegato permette al giocatore spendendo del legno di piazzare una sua casetta in uno spazio produttivo per aggiungere una unità quando produrrà quel tipo di merce partiamo da questo spazio è quello della polvere da sparo nel quale come azione bonus potremo spendere delle monete per piazzare dei pali del telegrafo vi ricordo che dovremo piazzare questi pali in città già raggiunte dalla rete di ferrovie e su quella città dovrà essere presente solo una casetta però appartenente a un altro giocatore perché sulla stessa città potranno esserci sì la casa e il palo ma dovranno essere di due giocatori diversi riceveremo comunque immediatamente i punti relativi al palo che avremo utilizzato all'inverso lo spazio delle monete permette spendendo metallo di piazzare le casette in luoghi già collegati alla rete su quali siano già presenti i pali del telegrafo ma non la casetta di nuovo il palo dovrà essere di un giocatore diverso rispetto a chi sta piazzando la casetta sulla mappa infine lo spazio del legno permetterà spendendo polvere da sparo di prendere delle casse ovvero dei miglioramenti in produzione di risorse da essere piazzate qui nella zona centrale di ogni carrozza ce ne sarà di un tipo specifico per la prima carrozza per esempio questo che dovrà essere piazzato in questo spazio potremo scegliere liberamente una delle quattro tipologie di risorsa considerando che comunque saranno in numero limitato a disposizione dei giocatori e quindi da questo momento in avanti quando andremo a fare l'azione dei personaggi attiveremo prima quello sul tabellone poi andando sulle carrozze prima riceveremo la risorsa riportata qui sul bagaglio e poi attiveremo i nostri personaggi da sinistra a destra e così via per ogni nostra carrozza e per andare incontro comunque alla tendenza del gioco nella seconda carrozza piazzeremo queste casse che daranno due risorse dello stesso tipo mentre nella terza carrozza riceveremo sempre questo tagliandino che ci darà tre risorse in qualsiasi combinazione veniamo adesso in ultima analisi ai bonus che riceveremo avendo più lavoratori del nostro colore che guardano l'azione che stiamo facendo prima di piazzare o mettere il nuovo lavoratore per quanto riguarda gli spazi di produzione riceveremo una risorsa in più del tipo prodotto dallo spazio per ogni lavoratore del nostro colore in più al primo che sta guardando quello spazio per quanto riguarda lo spazio personaggi potremo attivare una volta aggiuntiva il lavoratore omaggio dello spazio per ogni lavoratore in più rispetto al primo e starà guardando quello spazio per quanto riguarda invece lo spazio centrale faremo tante volte una delle azioni o anche comunque prima l'una e poi l'altra per ogni lavoratore in più rispetto al primo che avremo a guardare quello spazio qui voglio aprire una piccola parentesi perché per un mio errore nella lettura del regolamento ho creato di fatto una host rules che secondo me funziona meglio rispetto a quello che vi ho appena spiegato per quanto riguarda i bonus infatti siccome la particolarità dei bonus di ogni casella non solo non è rappresentata con delle icone qui in questa zona ma è anche presente veramente in piccolo piccolo alla fine del regolamento io ho fatto in modo la prima volta che ho giocato che ogni lavoratore aggiuntivo rispetto al primo che guarda quello spazio permette di riattivarlo da zero un'altra volta e così via quindi di fatto si ricevono multipli delle risorse di cui abbiamo diritto si riattivano tutti i lavoratori quindi treno intero tutte le volte che avremo dei lavoratori aggiuntivi e per lo spazio centrale è uguale a prima in questo modo secondo me diventa un gioco ancora più complesso da padroneggiare ma darà veramente tante soddisfazioni creare dei motori che permetteranno di alimentare la nostra strategia in modo anche un po più veloce rispetto al gioco base e secondo me è meglio giocarlo così poi fate voi faccio giusto una parentesi finale prima di passare ai punti di fine partita per spiegarvi in riassunto come si ottengono nell'arco della partita alcuni di questi spazi permetteranno di riceverne costruendo queste casette qui nei luoghi produttivi o comunque piazzando cose sul tabellone potremo riceverne resettando i senatori potremo riceverne anche piazzando l'ultima carrozza del treno e piazzandoci i nostri personaggi considerando che comunque i personaggi andranno piazzati da sinistra a destra senza vuoti oppure principalmente dalla costruzione delle nostre ferrovie sulla mappa vi ricordo che riceveremo sempre due punti per ogni casella che avremo occupato una nostra ferrovia considerando il tracciato più breve per arrivare alla città che stiamo occupando un punto per ogni casella in più rispetto al tracciato più breve oltre a tutto questo ogni qualvolta un altro giocatore con la sua locomotiva arrivasse in una città dove è presente un nostro pezzo casetta o palo ci permetterà di guadagnare tre punti e quindi andando avanti con la partita se con la mia rete mi sarò attaccato a quella di un altro giocatore e in quel modo con la mia locomotiva arrivassi su una città su cui è presente la casetta e il palo del telegrafo di altri due giocatori darò tre punti a uno e tre punti a un altro però andando avanti con la partita sinceramente sarà automatico farlo se andrà avanti a giocare in questo modo fino a quando un giocatore sancirà l'ultimo turno di gioco facendo l'ultimo collegamento e permetterà di arrivare dall'ovest all'est il giocatore che farà questo ultimo collegamento riceverà 15 punti e poi se andrà avanti a giocare fino a quando tutti i giocatori avranno fatto un ugual numero di turni quindi fino a chi sia dalla destra di chi ha cominciato a giocare la partita all'inizio andremo quindi ad aggiungere i punti di fine partita per quanto riguarda il magazzino riceveremo un punto aggiuntivo per ogni ferrovia che sarà rimasta lì sopra le risorse non varranno niente andremo poi sul tabellone a guardare questa griglia dovremo sommare insieme il numero di case e palli del telegrafo che avremo piazzato in mappa mi raccomando non qui nella zona delle azioni questo numero dovrà poi essere correlato al numero di punti che riceveremo per questo totale saranno punti esponenziali infine verificheremo il giocatore che avrà la maggioranza per quanto riguarda questi quattro obiettivi di fine partita comuni e solo laddove ci fosse un giocatore con la maggioranza assoluta riceverà tre punti per ogni criterio nel quale maggioritario in caso di pari merito nessuno prenderà niente fatta la somma quindi dei punti ottenuti nell'arco della partita più i punti per le ferrovie avanzate più i punti per la popolazione del nostro colore in mappa più i punti derivanti dagli obiettivi di fine partita vincerà il giocatore col totale più alto in caso di pari merito sul regolamento sono presenti due o tre criteri di spareggio il primo dei quali premerà il giocatore che avrà piazzato più case sul tabellone quindi mappa più zona azioni ed eccoci qua di ritorno vediamo subito i materiali come sempre quando si apre si rimane veramente a bocca aperta perché ci sono tantissimi elementi in plastica veramente ben fatti abbiamo le casette i pali del telegrafo che insieme poi sulla mappa sono veramente molto graziosi le locomotive il segnapunti che è l'unico neo di questa produzione perché anziché essere il classico gettone che può essere impilato quando più giocatori sono allo stesso punteggio e soprattutto all'inizio della partita sarà facile sia così e questa mini locomotiva ce ne stanno solo un paio sul tracciato sulle caselle così come sono fatte e le altre devono essere messe un po a lato quindi si rischia delle volte di perdere traccia del punteggio di qualcuno tutti i cartoni sono fatti molto bene le planche dei giocatori sono in cartoncino non in cartone però insomma una volta apparecchiato non ci si fa a caso perché è veramente estremamente sontuoso per quanto riguarda le meccaniche avete visto che sulla carta sono semplici almeno nella descrizione però a prenderle sarà un po tosto dobbiamo selezionare la nostra azione mettendo o levando un omino e facendo quell'azione eventualmente potenziata o eventualmente anche raddoppiata se usate la mia variante chiamiamola così se ci sono altri omini che la stanno guardando potremo acquisire risorse convertirle in bonus senatori o in ferrovie delle tre tipologie oppure costruire le tratte per collegare città e città o prendere altri personaggi per incrementare il nostro motore di gioco si va avanti così fino a quando un giocatore avrà collegato l'est all'ovest si aggiunge qualche punto chi ne fa di più vince dunque avete capito che è un gioco che comunque per essere padroneggiato ha bisogno delle sue partite o comunque del suo rodaggio per giocatori esperti perché comunque non è immediato nella sua spiegazione ma soprattutto nel suo apprendimento il fatto che sia sia un piazzamento lavoratori su spazi prestabiliti dove però non c'è una fase nella quale si piazza tutto si fanno le azioni via via e poi si riprendono tutti i lavoratori ma dovremmo fare bene il piazzamento ma anche cercare di capire quando togliere quei lavoratori per non rimanere senza e non fare le pedalate a vuoto sarà importantissimo così come anche magari piazzare qualche lavoratore in più prima per fare la stessa azione potenziata poi e quindi per aiutare ancora di nuovo la nostra strategia di gioco bisogna sempre ragionare due tre quattro turni avanti perché altrimenti non ne leveremo le gambe anche l'azione per quanto riguarda i personaggi del treno sarà importantissima dovremo cercare di creare una sequenza che ci permetta di acquisire delle risorse convertirle prenderne delle altre con i bagagli riconvertirle e così via per avere un po di ferrovie da poter mettere in mappa e quando andremo sulla mappa dovremo cercare di fare il percorso più breve o magari fare qualche curva in più per allungare un po il brodo e prendere qualche punto aggiuntivo anche se comunque sarà veramente raro fare una cosa del genere perché comunque le ferrovie vedrete che saranno veramente tanto tanto difficili da produrre quindi anche sprecarle tra virgolette sarà un po difficile mappa è comunque fatta in modo molto intelligente secondo me perché all'inizio vedrai giocatori con delle città molto vicine una o due caselle al massimo dovremo poi allungare il percorso successivamente quando magari i giocatori avranno creato un minimotore per quanto riguarda il loro gioco e avranno anche un magazzino un po più capiente per mettere più pezzi di mappa e poi dovremo comunque anche arrivare per primi a delle città magari andando ad allungare un pochino rispetto alla città più vicina però andando a collegare quella che è direttamente davanti a un altro giocatore insomma dovremo cercare anche di fare dell'interazione diretta o quasi per quanto riguarda la mappa e poi l'ultimo giocatore che farà il collegamento prenderà 15 punti sulla mappa comunque un gioco abbastanza di corse dove sarà importante arrivare per primi alle città centrali e anche collegare perché comunque davvero è lì che si faranno i punti soprattutto quelli che ci permetteranno di vincere quelli di fine partita se ci sono dovremo essere bravi a piazzare case e pali sulla mappa per comunque avere quel punteggio aggiuntivo però comunque bene o male ho visto che in fondo alla partita si arriva sempre tutti lì lì con quel tipo di punteggio salvo qualcuno che magari si è concentrato su altre cose che non saprei neanche cosa sono perché il gioco in pratica è un imbuto verso la mappa però comunque se qualcuno non è stato bravo in quello potrebbe rimanere indietro però era già indietro di prima quindi comunque i giocatori che arrivano a fare tanti collegamenti saranno lì lì con il punteggio punteggio che comunque alla fine primerà il giocatore che ha fatto meglio tutte le cose che c'è da fare nel gioco quindi è un gioco estremamente strategico estremamente strategico a medio e lungo termine ed estremamente punitivo se qualcuno farà delle azioni con le pedalate a vuoto perché qui davvero si soffriranno tanto devo mettere uno mio in uno spazio e li ho finiti perché li ho tutti sulla plancia lo devo levare da uno spazio precedentemente utilizzato e fare lì un'azione magari prenderò qualche risorsa che magari non mi serve perché con quell'azione che volevo fare e che farò successivamente le dovrò buttare a mare perché devo fare spazio nel magazzino quindi è un gioco davvero estremamente di pianificazione estremamente interattivo delle volte ma estremamente soddisfacente anche secondo me per giocatori che non amano i giochi di treni faccio giusto un cappello sulla variante che ho creato io un po a casaccio diciamo così perché comunque la prima volta che ho letto il regolamento non l'ho letto correttamente o meglio non mi sono ricordato di quel mini mini trafiletto che c'è in fondo e poi il tabellone non aiuta con le icone però devo dire che con quella variante sia un gioco ancora più strategico se vogliamo perché comunque potremo rifare da zero tutte le azioni e quindi di fatto creare di nuovo un altro motore di gioco anche se comunque non le faremo tutte interamente se le faremo due tre volte perché faremo solo quelle parti che ci interessano perché altrimenti il magazzino si sovrappopola di troppo materiale quindi in conclusione è un gioco che mi ha convinto veramente tanto io vi ho dato anche uno spunto per poterlo giocare in modo più complesso ancora ma anche più corto come durata quindi avete tutte le armi in mano per poter apprezzare questo gioco eventualmente e dargli una possibilità perché secondo me se la merita e per quanto riguarda il suo prezzo Pacific Rail Sync viene nuovo intorno ai 50 euro e considerato il contenuto della scatola forse è anche un po sotto prezzo rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare usato non l'ho praticamente mai visto però che volete 30 35 euro ci si potrà stare e se avete le caratteristiche ho detto prima e soprattutto se siete fan di giochi dei treni questo potrebbe essere un gioco che fa al caso vostro fateci una pensata e siamo arrivati alla fine anche di questo video lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate in descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi qualche indizio su dove trovarlo negli store europei il sito della kobold che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video il sito di wildisoul con le sue magliette ecologiche e il mio codice sconto borghemi italia con tutte le sue recensioni il canale gioconauta per recuperare tutte le mie live del mercoledì e il sito wiga dove proverò a far partire un ga per il gioco di oggi appena uscirà questo video quinto nome facciano e vi lascio tutti i link a video per i voti importanti per essere rivisti vi anticipo il prossimo lo girerò su eolos e se non state iscritti cliccatevi sul pop up e attivate la campanella noi ci vediamo al prossimo video ciao